Tanti anni di storia, partendo dal 1903 quando Riccardo Soriano II, il marchese di Varrey, fonda il Royal Automobile Club of Spain per arrivare ai giorni nostri, aprendo la strada del marchio verso la mobilità elettrica. Molta la strada percorsa da Soriano. Un avvicendarsi di epoche diverse perché c'è un periodo di industrializzazione molto europea dei primi tempi, dei primordi, con un tasso di invenzione e di innovazione elevatissimo che c'era in quegli anni, poi c'è un periodo invece di maturità dell'industria e anche di deflusso dell'attività industriale anche fuori Europa, lo sviluppo che ha avuto la famiglia molto particolare negli Stati Uniti con un elevato successo e questa decisione ambiziosa di tornare in Europa e avere in Europa il centro fondamentale in cui vengono sviluppate le attività industriali. Quindi è un quarto periodo di vita del gruppo. Nelle 2020 Soriano Motori è stata rilanciata da Marco Soriano IV come piattaforma di lifestyle EV globale di fascia alta, scegliendo l'Italia per la rinascita del gruppo. Grazie.